Quindi io vi ringrazio di cuore, ringrazio voi per essere venuti a toglierli, oggi è una giornata dedicata a voi perché abbiamo smetto quando voglio uno, smetto quando voglio due, smetto quando voglio tre, nel senso che abbiamo una clip, ne parliamo e vediamo una clip e voi non smettete mai. No, beh, a un certo punto ci diranno che è stato un po' a casa, no, veramente, grazie mille, è bellissimo, è di pomeriggio adesso, potrei vedere un film di tre anni fa, questa è una cosa ancora più sorprendente perché a noi ci sembra che, tipo, tre anni facciamo lo stesso film e quindi se vi è venuta la curiosità, magari stasera se non siete stanchi, c'è il seguito, fra un paio d'ore, fra un paio d'ore, venite a vedere il seguito, un frasi. Ma per farvi capire il lasso di tempo enorme che è passato per noi, ho vederne un'età, io sta barba bianca ce l'avevo e poi su un secondo mi hanno frucato, per la ricerca. Ho la prima cosa che mi ho detto sì, poi io sta barba bianca e non aveva te lì, è la prima cosa che ho detto quando abbiamo fatto una lettura del secondo. Grazie, grazie, grazie mille, noi siamo molto contenti e orgogliosi di questo film, per questo ci abbiamo un affetto. Grazie. 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 Grazie.